Ciao ragazzi Come sapete benissimo lo slogan di Sherwood è If I can dance is not my revolution E questa sera si ballerà al ritmo del groove e del funk Io so che siete una band abbastanza recente Quindi un anno, un anno e mezzo Yuri in fuori onda mi ha illuminato Per suonare il groove e il funk da dove siete partiti? Siamo partiti appunto un anno e mezzo fa Da una fantastica sessione ritmica E da lì si è evoluto un po' tutta la band Abbiamo trovato una dimensione Diciamo che è nata un po' per caso Cioè è stata una situazione in cui dovevamo suonare Ci siamo trovati, abbiamo fatto una prova Ci siamo divertiti, abbiamo avuto un concerto Abbiamo passato i primi 5-6 mesi a suonare un po' Così, proprio solo per divertirci Ci trovavamo a fare direttamente i concerti Nelle situazioni un po' al limite Nei concerti jam Proprio solo per fare, solo per divertirci Vorrei precisare che per la cronaca Questa è una tribute band dei mannati Non sono loro Quindi Io ho comprato gli occhiali da sole uguali Visti i tempi Io direi che sia il caso anche di presentarvi un attimino Ragazzi Passate il microfono e presentatevi uno a uno Allora, sono Yuri Sara Andrea Marco Ugo Il Fede L'immenso Simone Ok E manca Nazza il nostro trombettista che sta arrivando Ok, ci raggiungeremo tra poco Ragazzi, quello che vi volevo chiedere Allora, intanto suonare certe La musica afroamericana dalle nostre parti Non è mai un'impresa semplice Per cui io accolgo sempre a braccia aperta Chi ha il coraggio di mettersi in gioco Quanto difficile è per voi? Avete trovato riscontri positivi in ogni vostro live Per dire Ok, continuiamo Allora, il live è abbastanza coinvolgente, diciamo, per il pubblico È ricco di groove Quindi, diciamo che ogni live abbiamo un po' messo una bandierina Solito dire a fine concerto Quindi, sì, riscontro super positivo È un po' difficile girare perché appunto è una band di otto persone Quindi, visti appunto i tempi, cassè, tutto È un po' più difficile organizzarsi Ho capito Avevo una domanda anche per la cantante, Sara Ok, che prima Vi siete dimenticati? La cantante è muta Non riesce a rispondere alle domande, purtroppo Beh, vediamo Sara, cimentarti in sonorità di questo tipo Hai una musa ispiratrice o più musa ispiratrici Che, diciamo, ti danno un po' la guida su come intonarti o come cantare? In realtà io mi sono avvicinata al funk solo recentemente E ho iniziato dal jazz E il jazz sicuramente rimane la mia passione principale Quindi Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Anita O'Day E poi recentemente appunto mi sono avvicinata al funk E soprattutto ho scoperto Roy Hargrove Che è sicuramente un riferimento importante per tutti noi Direi assolutamente giusto perché Intanto colgo l'occasione per far vedere quello che è l'IP della band Non so se riuscite a fare un primo piano ma non importa Che contiene tra l'altro la famosissima Thames from Starsky Dutch Che è anche un po' la colonna sonora dello Sherwood Festival Quindi chapeau ragazzi E poi come diceva giustamente Sara C'è anche un pezzo di Roy Hargrove De R.H. Factor che è Crazy Race Quanto difficile è suonare R.H. Factor? È molto difficile perché loro riescono a Hanno un loro stile, una loro personalità Quindi o cerchi di avvicinarti molto Però non sei loro O cerchi comunque di dare un tuo taglio Quindi quello che noi un po' abbiamo fatto È stato creare la nostra versione di tutti i brani che abbiamo fatto Soprattutto per quanto riguarda i mostri sacri Perché è sempre molto rischioso riuscire a rendere Veramente, essere onesti con quello che si fa Cercando di non creare delle copie Non è assolutamente facile Stiamo parlando di mostri come dicevi tu Se doveste dire magari uno a testa Un gruppo o un musicista Non necessariamente funk Ma comunque afroamericano di estrazione Che in questo momento vi sta profondamente influenzando Non ditemi tutti i Roy Hargrove Perché sennò non vale la domanda Masseo Parker sicuramente Masseo Parker Masseo Parker Ma io rimango sul John Coltrane Allora il mitico John Coltrane Che rimane sempre comunque un padre fondatore James Brown ragazzi La musica afroamericana Vorrei dire ma The King Sì James Brown John Coltrane che è il grande ispiratore Proprio anche Prince Infatti suoniamo anche un brano Di Prince in repertorio E quindi Lo svegliamo oppure No dai Teniamo riserviamo per notte Esatto Quindi cos'è che devo dire? Visto che avete già detto tutto Ma Mozart Mario Merola Mario Merola Secondo me Insomma Con parole mie L'influenza di Mozart C'è un pallone che non vuole sapere Ha dato questo groove alla band Toccando dei punti un po' come Rachmani Ninoff Oppure Beethoven Che insomma No? Direi che ci siamo Io so che comunque Andretti in scena intorno alle 10 Dici un quarto Ecco il trombettista Ecco il trombettista Ciao trombettista Ciao Grande Nazza Ben arrivato Cosa ci avete preparato questa sera? Un grande spettacolo per un grande festival Ma sicuramente Nazareno Ciao a tutti scusate per il ritardo Purtroppo Noi siamo Io e lui siamo dei Noi siamo di Bolzano Il nostro Il nostro motto è arrivare sempre puntuali Esatto Quella littorina famosa Bolzano Esatto Mantua Ostiglia A parte gli scherzi Niente Quello che Vedevo anche che avete una Una traccia degli incognito Che è la traccia numero 5 Che è Colibri Immagino che comunque Anche l'SJazz Degli anni 90 Costituisca un po' Una base portante Che è del vostro stile Perché James Taylor Quartet Incognito Quanto attingete Anche a Beh le sonorità Sono Direi quasi classiche Un po' degli anni 90 Cioè tutto ciò Che è stato dato Negli anni 90 Adesso lo cerchiamo Adesso di riproporlo E sembra che c'è anche Questa ondata Questo ritorno Nel ricercare appunto Questi group Questo AC Jazz Questo insomma Questa formazione qua Ok Qualcun altro voleva aggiungere qualcosa Su incognito O James Taylor Quartet E che sono talmente Dei colossi Che è meglio Non aggiungere niente Ed essere umili A provare appunto A esibirsi Con i loro brani Insomma Ok 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 ragazzi Niente Io direi che Se non avete Altro da aggiungere Direi che Non mi resta Che lasciare spazio A quello che sarà Davvero Un ritmo Sincopato A partire dalle 10 10 e un quarto Sì tranquillo Ne approfittiamo Per appunto Invitarvi A seguirci Nel web Abbiamo il nostro sito Che è www.mannachi.it O attraverso O attraverso La pagina facebook Per seguire il nostro tour Che toccherà Stiamo in preparazione Del tour italiano Arriveremo fino Come tribute band Chiaro Io per assomigliare Al tasterista Ho potuto ingrassare 10 chili Perché Mi ha Appassionato In una maniera incredibile Nel sito Quindi Seguiteci Sicuramente poi Ci sarà anche Un report Del concerto Di questa sera Per cui Chi sventuratamente Non avesse la possibilità Di essere presente In qualche modo Cercheremo di Far trasparire Le emozioni Nelle parole Anche di quello che sarà Il vostro concerto Di questa sera Per cui Ragazzi grazie Di essere stati con noi Buon concerto Buon groove If I can dance Is not my revolution E grazie Ciao Ciao a tutti Ciao Ciao